Oggi su Teardown sfidiamo il nostro personaggio di Roblox, lo tireremo giù, ammazzate pesanti, siete pronti? Guardatelo in tutta la sua bellezza, guardate quanto è fiero, eh? La mia skin di Roblox è veramente fiera e vuole sfidare la mia faccia, dice di essere più bello di me, non ha capito niente con questi lunghi, lunghi occhiali. Vi piace Roblox? Vi piace di più il mio personaggio di Roblox o il mio personaggio di Minecraft? O la mia faccia vera? Decidete, scrivetemi qual è il più bello. E lui, guardate com'è armato, spada di legno, scudo di legno, vediamo se è buono. Ah, però, 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 questo scudo sembra veramente scudante, ma resisterà per caso a una botta di raggio della morte? Direi di provare subito con questa prova, perché dobbiamo capire chi abbiamo davanti. Ah, 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 però, però, ma giustamente anche il mio personaggio di Roblox ormai è bello maturo, eh? Cioè ha vissuto un casino di avventure, un sacco di modalità, mostri, boss, parkour, clicker, ne ha visto un casino, quindi è... Bello rinforzabile, eh? Complimenti vivissimi, fratello! Ha visto come ha cacciato via il fumo? Ha dato una botta, ha scacciato via il fumo. Vediamo la spada se ti protegge? Ah, no, tutti e due no, eh, non vale. Anche la spada, eh? Madonna, madonna, che spada! Che spada, guarda come taglia la nebbia dovuta alla nostra esplosività. Beh, tra poco proviamo anche con i veicoli, direi, ma prima voglio provare un'ultima cosa, se me lo permetti, fratello. Sì, Russian Tesla, questa qui la conoscete? La mia pistola gigante elettrica. Questa dovrebbe fare un bel casino. Niente, eh? Che miseria, bello scudo. I miei complimenti a chi ha creato quello scudo deve essere un mastrofabbro di Roblox, eh? D'accordo, allora non ci rimane altro da fare che provare a prendere una bella rincorsa e a sfondarglielo questo scudo con il nostro school bus della morte. Siete pronti? Mi manca il dog, ragazzi. Vi ricordate i primi episodi di Teardown dove avevamo il dog? Quel bel mezzo esplosivo gigante. Oppure il Cernobog? Quello con tutti i missili dietro? Tanta roba. Non so se riuscirò a recuperarli, però poi ci provo. Adesso vai a tutta birra con questo! Parami se ci riesci! Ah! Oh 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 oh! Che botta! Che botta! Madonna! Mi ha scagnato la parte di dietro del bus! Sarà un avversario temibile! Temibile Bene, non abbiamo il Dog, ma abbiamo il Minus Che oggi per l'occasione Tira fuori tutta la sua potenza e diventa il Dominus Pronti? Vai a tutta birra, Dominus! Ah! Sì! Oh, che penetrazione, boys and girls! Incredible! Sì! Andiamo a vedere Che bella testa prosciutta che abbiamo qui Una bella testa prosciutta Che bel buco che abbiamo fatto E lo scudo non è servito a niente A niente Adesso già che sono qua Io infierisco un pochino Giusto un pochino Pisellone Adesso ti sparo pure questo Questa è lì Questa qua è cattivissima Fermiamola perché questa rompe tutto Mi ricordo Però abbiamo fatto ancora poco C'è bisogno di scassare di più E secondo me qui Colui Che può Colui che deve Scassare di più E lui L'unico L'inimitabile Il definitivo Armandissimo Nella sua potenza Nella sua potenza di un milione di tonnellate Nella sua violenza di un milione di metri al secondo di velocità Armandissimo si prepara allo schianto E allora tre E allora due E allora uno Kawabanga E hai messo lo scudo pezzente ma Guarda com'è penetra Armandissimo Bravo Glorante Poveri E però alla fine Viene deviato Un bel esplosione Armandissimo Complimenti vivissimi Vediamo il danno che abbiamo fatto Qua E mi sa che è stato un bel po' Abbiamo portato via mezza faccia Complimenti Stringiamoci la mano ragazzi Mettete l'emoji di una mano Nei commenti che ci stringiamo Per aver scassato Per bene questo coso Qua e adesso Gli disegniamo pure Un fagiolino qui Eh Della testa Sì Ha 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 Beccati questo Testa di lion Però sono io in effetti Va bene non fa niente Beccati qua Perché mi prendi in giro da solo Poco scemo Ah suca Adesso Ah questo qui il rostromostro Sì che cambia nome ogni volta Vai rostromostro Tu puoi definitivamente terminare questa vicenda Puoi staccare tutto Quanto Questo braccio Vedo che sta Ah è caduto il braccio Oh Oh Come mi dispiace Ti spengo un po' di sgabirro Eh Piselo Adesso non hai più una delle due difese Rimane soltanto lo scudo E secondo me questo Questo te lo rostra ben bene Quello scudo Quello scudo Tiralo giù Bravo Che penetrazione Che spaccatura Mamma mia Mamma mia Non è rimasto più niente sul nostro passaggio Ah che belle gambe però Ah che belle gambe Sarebbe un peccato Se qualcuno qua Si accanisse e ne tagliasse un pezzettino Eh Un pezzettino di questo bello stivale Laionico per esempio Lo tagliamo Ma sì ma sì Tagliamolo con grande coraggio Un po' meglio Perfetto Perfetto Opa la lai Ed è caduto il bracino Adesso sarebbe un peccato Se qualcuno con grande potenza Lo spingesse in rocca di casino 3 2 1 Vai Oh Godurioso Sì Ah che bella Spaccatura Spazio temporale Che distruzione C'ha un altro piedino però Eh 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 Non va bene eh Non va bene Non va bene Prima di tutto Utilerei una kamehameha lì Un po' Anche un po' più Eh Abbiamo aperto Un solco Delle chiappettine qui eh Nell'ersonaggio di roblox Un pochino di chiappettine così Eeeh Eeeh Violenta eh Pure focosa Pure focosa Spegniamo le fiamme Che non si sta mai Sì Tieni fermo quelle mani Perché altrimenti io te le taglio eh Te le taglio quelle braccia da Pirlus Adesso faccio anche di peggio io Tiro fuori Il mio Lancia fiamme Visto che prendi fuoco così facilmente E questo braccino Te lo bruciamo Vai Abbondiamo Abbondiamo Che deve bruciare bene Ok Così è sufficiente Sì Guardate le fiamme Guardate come brucia il bracino Ancora Ancora brucia 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 Adesso glielo stacchiamo sto braccio Siete pronti? Sì Tiralo su Tiralo su Puoi fare quello che vuoi Tanto adesso Esplode tutto Esploso pure prima forse Purtroppo Esploso da solo E beh perché gli avevano dato fuoco Quindi giustamente Aveva perso stabilità Però vedo che qui rimane ben poco eh Qui tra il danno della prima esplosione Il braccio che vola via Questo che salta E quello che salta Broderino Rimane pochino eh Qui Cadi a pezzi Secondo me per dargli il colpo di grazia Bisogna buttarsi definitivamente Sulla parte qui Perché voi sapete io Su Roblox ho le costole no? Non ho la panza Al contrario Non ho proprio niente lì Quindi secondo me qui Se noi facciamo un po' i chirurghi E tagliamo un po' queste cose Che no Magari Magari gli danno fastidio eh Che ne sai Eh Le togliamo Magari rimane soltanto Un pezzettino piccolo piccolo Attenzione eh Che Qua è un pochino delicata la situa Eh Delicata abbastanza eh Aspetta che Così piano 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 Eh Piano 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 Eh la peppina eh Qua Gianfilippo l'ho sentito soffrire eh Un po' Si vede che questo pezzo di costola Era particolarmente ostico Però rimane questa parte qui Boys and girls Questa parte qui Se noi lì ci schiantiamo Con un veicolo Forte Agile ma onesto E gliela tranciamo Tutto il torso del personaggio Dovrebbe cadere rovinosamente A terra E noi in questo momento Ce lo vogliamo gustare In questa sport car Siete pronti Dobbiamo andare Non troppo veloce Perché dobbiamo prendere giusto Quel pezzo eh Vai Accelero poco Una frenatina tattica Eccolo Non male Troppo poco Troppo poco Troppo Vabbè però Almeno adesso sappiamo Abbiamo il metro di giudizio eh Bisogna fallire almeno una volta Per poi riuscire bene La volta successiva Tutte queste macchine Non vanno bene Bello eh E quei camion lì Belli ma Non vanno bene Mh Babba mia Che bombe Prendiamo invece qualcosa Che vada bene Secondo me Questo Se è misero Lo so Ma per fare questo lavoro Bisogna essere chirurgici Precisi Secondo me questo va benissimo Vai un'accelerata Bella seria Renatina tattica Non male Era buono Era buono Tra l'altro Non so come sia successo Ma qui sta anche andando a fuoco tutto Ma io direi Non spegniamolo Magari crolla da solo Ma abbiamo ancora tempo di buttarci addosso un altro veicolo E io scelgo te Lamborghini Pamberini Ramerini Caccherini Pronti Vai piano piano Opa là Ok perfetto Quasi bene Quasi bene Quasi bene Qui sta ancora bruciando La miccia è accesa La braccia è accesa E brucia le costole di Lion di Roblox Proviamo un altro Lamborghini Paperini Paperoni Disfondiamo i costoloni Vai Troppo Cavolo la differenza Tra troppo e troppo poco E' un non nulla E' un non nulla Sta bruciando tutto sto coso Sta prendendo fuoco da ogni dove Va bene sentite a questo punto Eeeh Attenzione però E' rimasto sospeso C'è qualcosa che lo sorregge Non ho idea di che cosa sia Forse la testa Perché Sotto non vedo altro Mamma mia Bro Che cassino La gamba Dai buttiamogli giù anche la gamba Cosa facciamo Rimaniamo così No che non rimaniamo così Una bella scagnata così Crolla No Mi sa che la gamba Arca è resistente Aspetta un attimino Che ti penso io Ti penso Però mi sa che non crolla Perché credo che il suo centro di gravità permanente Sia proprio la pancia Quindi forse per quello che Non è crollato nemmeno quando abbiamo scassato la parte sopra Però abbiamo rotto tutto Ma proprio abbondantemente Secondo me l'ultima cosa che possiamo mettere Prima di cambiare E metterne uno pulito E un bel meteorite qua in petto Questo è un sogno che io ho sempre avuto Di essere schiacciato da un meteorite Non è vero Però insomma Eccolo qui che arriva Mazzambaione E dalla testa in su In giù In su Dove gli pare a tu Che bello scassamento Guarda il torso come oscilla Quasi scardinato dal suo centro di gravità permanente Che scassamento Bellissimo E adesso bisogna aspettare qui due o tre secondi Che si stabilizza La distruzione Con tutto il fumo Però ragazzi ormai Abbiamo distrutto tutto Non ne rimane più niente Non ne rimane nulla Abbiamo scassato ogni dettaglio Guarda qua Poi brucia pure Sta andando a fuoco completamente Guarda È irriconoscibile Non si capisce neanche che cosa stiamo guardando qui Basta basta Bisogna ripulire Ripristinare la sua bellezza Ma Mentre lo facciamo Io vi ricordo Che in tutte le librerie C'è il mio nuovo libro E io ci tengo tantissimo Che voi questo mio nuovo libro Lo abbiate Perché dentro ci sono 28 storie di mostri Da me creati Con anche 28 identikit E 28 illustrazioni Noi stiamo affrontando questi mostri Anche qui su Teardown Ne abbiamo distrutto già due Quindi mi raccomando Non so se voi avrete visto entrambi Ma in ogni caso li vedrete E quindi Anche voi Dovete affrontare questi mostri L'unico modo per farlo È leggendo il mio libro dei mostri Mi raccomando E ora Siamo pronti di nuovo Ma questa volta Non possiamo essere così miserabili Dobbiamo avere di più Dobbiamo avere qualcosa di più E quindi io propongo Di provare a cercare Se siamo abbastanza fortunati Perché secondo me potremmo eh Allora questo è carino Volevo provare a cercare Il mezzo dei nostri sogni Il Cernobog Però purtroppo A me Mi sa che non c'è Perché tutte le volte Che io provo Cioè ce ne sono tantissimi Cioè guarda Cioè ci sono delle figate eh Perché questo qui È bellissimo per esempio È il camion da miniera Quello che c'è anche su GTA Bellissimo Però C'è l'excavator Bellissimo Il TR Dozer Questo qua tra l'altro Me lo ricordo Perché era uno dei mezzi Che abbiamo messo noi Questo è praticamente Uno dei mezzi più forti Che l'abbiamo usato Solo una volta Ma è bellissimo Li usiamo tutti ovviamente Non è che li metto e basta Li proviamo anche Però Purtroppo Quello che volevamo noi Non c'è C'è invece Una cosa particolare Questo qui È uno Una palla demolitrice Con il buco nero Adeso E infatti vedete cosa fa Madonna Cioè questo qua Distrugge Oh mio dio Oh mio dio Sta distruggendo tutto Che casino Madonna Ah invece della palla Capite Invece della palla Possiede Un buco Viola in questo caso E guardate quel mezzo Che vi ho detto Indistruttibile È rimasto lì E non si è distrutto Guarda si è distrutto Piuttosto questo Mamma mia E questo si sta ingrandendo E io Allora secondo me La cosa migliore Che possiamo fare Per evitare la distruzione Del mondo È portarla lontano Questa cosa Tecnicamente lì Non dovrebbe Raggiungere nulla E non dovrebbe Creare problemi Però Invece Se riesco a recuperarlo Noi dovremmo avere Quel mezzo di prima Che non ha un nome Quindi dobbiamo Battezzarlo In questo momento Ma guardate la sua potenza Se io anche lo strascino Sopra le bombe Si è distrutto Ma forse non era lui Non era lui per forza È indistruttibile quello Dai non può No? Cioè che sarebbe Una figuraccia Anche per me poi No? Cioè sarebbe una figura Terribile Ah ma perché c'è anche La versione indistruttibile Ah Questo è indistruttibile Che se io lo strascino Sulle bombe Non gli succede niente Ah eh vedi 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 Eh questo Eh ma se anche voi Mi fate sbagliare E io non l'ho visto Eh non mi dite nulla E ridete voi E non è giusto Eh Oh Adesso guidiamo questo Che lo chiameremo La tartaruga sbruga Eh perché È tutta corazzata Come una tartaruga Ma sbruga Perché sbrugare Vuol dire tipo che Nessuno la può contrastare Guardate Guardate come è incontrastabile Ah Eh Lui è convinto Di aver fatto bene Con questa manata Che mi ha dato Spedendomi In cima al cielo Lui è Prima di tutto Magari gli cado in testa Chi lo può dire Secondo L'abbiamo scassato Perché ho visto pezzi rossi Che partivano Quindi adesso appena scendiamo Vi faccio vedere Le scendiamo Ma staremo scendendo Secondo voi Perché secondo me Cioè tecnicamente Quello che va su Prima o poi Deve cadere No Quanto ci ha mandato in aria Questo qua Che forte Scendendo Per forza Ma dai Non può No Cioè È inevitabile Se andò un'ora Qua sopra in cielo Però eh Non vorrei essere Scusami eh Madonna Sta cadendo Io sto cadendo Più lentamente di lui E non riesco a tornare Lo stesso giù Come 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 faccio Io volevo vedere Quello che succede Quanto ci ha mandato in aria Eh Aspetta Ok Posso ritornare così però Eh Non ho idea Di dove sia il mezzo Qua Non lo vedo Quindi Di sicuro Non è caduto Se ce lo vediamo Cadere in testa Tra qualche secondo Non lo so Però Non mi pare Che stia scendendo Però qualcosa Abbiamo fatto Guarda Qui Ti abbiamo rotto Tutto questo occhiale Da scemo Eh Bravo Bravo Eh Crettino Ti sta bene Ti sta Non torna più Quello affare Cioè L'abbiamo perso L'abbiamo perso Ma proprio definitivamente Chissà quanto lontano è andato Però abbiamo ancora questo Eh Il lanciamissili Sei pronto con lo scudo adesso Beccati questo Come un pazzo Sì Ah Eh Ah Questo danno L'abbiamo fatto noi Con i nostri Bomberoli E qui invece lo scudo Ha resistito Incredibile Questo scudo È veramente Impressionante Indistruttibile Ah Aspetta un po' No no Ma che anzi Peggio Se uso il laser Mi rompe il computer Quindi è meglio Se non facciamo niente È proprio Ma che Ma che Ma che Ma che Ma che Ma che Una bestia Una bestia Indistruttibile Ma qualcosa Decidere Essere che può Scassare questa cosa Una bomba nucleare Qua davanti Davanti al braccio Cosa potrà mai Andar storto Vado Con la potenza massima Eh Vai Eh nulla Perché non si distrugge Neanche con la bomba atomica Madonna Però aspetta Perché ho sentito Dei movimenti strani Io eh Quindi magari Magari Già è sorprendente Che non è esploso Il mio computer Pur se vedo Un po' di staticità Nella scena Quindi mi fa pensare Che qualcosa Stia andando storto Eh Però qualche cosa Si muove Questa è una bomba atomica Alla potenza regolare Noi la mettiamo a 1 Questa è la potenza a 30 Eh Vi lascio un po' immaginare Eh Però essendo lo scudo Non distruttibile Ha creato meno problemi A Gianfilippo Il mio computer Però non sta proprio Procedendo tutto qua Cioè La vedo un po' Congelata La situazione Comunque Credo che un po' L'abbian rotto lo scudo Perché al centro Vedo del materiale Incandescente Però Mi vedo costretto A terminare Questa sessione Di esperimento Perché qui Non procede Qualche detrito Lo vedo Ecco Forse abbiamo Raschiato un po' Il davanti Mi scoccia anche un po' Eh Terminare così Però è tutto bloccato Ragazzi Non c'è niente da fare Per salvare Gianfilippo Devo per forza Terminare la situazione Perché altrimenti Sapete no Quando si crea Questa situazione Di stall Gianfilippo Che lotta Per la sua vita Il mio computer Io ci tengo Ci lavoro E altrimenti Poi come faccio A fare video per voi È un problema Però abbiamo ancora Qualcosa da provare Non vi preoccupate Perché l'arma definitiva Lion se la tiene Sempre per ultima Io vi ho promesso Qualcosa di esplosivo E qualcosa di esplosivo Ce l'abbiamo Perché questo Non sarà il Cernobog Ma è simile È tipo il cugino Di campagna Il Cernobig Perché è un po' Più piccolo Però comunque Piuttosto grande Non rompiamolo Eh Non rompiamolo Perché Ma porca miseria Oh guarda Che imbecille Che so Allora questo qui Lo guidiamo Con calma Senza romperlo Con calma Eh ma porca miseria Ma io non ho fatto niente Dai Non è colpa mia Questa volta Non ho toccato nulla Si rompono da soli Sono fatti di burro Questi Cernobig Dai Oh Adesso piano Piano Pianissimo Piano 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 Eh che cacchio Piano 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 Perfetto Perfetto Ottimo Ora La precisione Mangio le mani Che fastidio Proviamo un'ultima volta Adesso Se non ci riusciamo A monte Glielo voglio buttare addosso Perché se glielo guido So già che mi esplode durante il viaggio L'unica è buttarglielo addosso Quindi dobbiamo riuscirci Allora Per cortesia Ognuno deve collaborare Collaborare Ok Collaborazione Collaborazione No Anche io se l'ho chiappo dal missile Oh Ho visto roba cadere Piano piano Non corriamo più a lenti Bisogna andare con la calma nelle tasche Ok Adesso appena arriviamo a distanza promiscua Glielo tiriamo addosso Oh Vedo missili che cadono Vedo missili che cadono Glielo tiro Vai Perfetto Perfetto Guardate che scassamento Mamma mia Glielo abbiamo pure incastorato Si è diventato tipo Superman adesso Bellissimo Concludiamo in bellezza direi Con un ultimo asteroide Che gli buttiamo qui Allontanandoci per goderci Questa esplosione Castastrofica Ah Sugmajordur Bellissimo Bellissimo Guarda proprio in cima alla cocuzza Eh Perfetto E poi Ci fermiamo Spero che questo video di distruzione al mio personaggio vi sia piaciuto Spero che vi ricordiate Perché ci tengo tantissimo Di andare a comprare il mio libro dei mostri In tutte le librerie o su internet Lo trovate ovunque Basta cercare il libro dei mostri di Lion E per oggi Lion I'm out I'm out